Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati anche quest'oggi alla rubrica Caffè Mercati Un saluto come sempre da Riccardo Zago, trader di investire.biz Allora quest'oggi trading live alle ore 16 Adesso andiamo a vedere qualche anticipazione, qualche operazione che voglio fare E di conseguenza poi ci vediamo al trading live per approfondire tutto nel dettaglio Come sempre stop target ma soprattutto la gestione La gestione della posizione è essenziale per essere profittevoli nel lungo termine Per quanto mi riguarda, è un argomento anche che affronteremo alla grande Qui al corso completo di analisi grafica ci sarà molto anche sulla parte gestionale Quindi delle posizioni e del money management altrettanto importante Bene, allora direi che possiamo iniziare subito con il calendario economico Se non sbaglio oggi dovrebbe essere abbastanza tranquilla la situazione Mercoledì 25 aprile 2018 eccoci qui C'è solo un dato interessante quest'oggi Scorte di petrolio greggio alle ore 16.30 Un dato interessante come sempre lo seguiamo in diretta Vediamo un attimo la volatilità se tocca dei punti interessanti E successivamente poi questa sera però All'ora 22.15 parla il governatore della banca canadese Poloz Quindi attenzione anche alla 22.15 Bene, detto questo io potrei, anzi passo subito ai grafici Andiamo quindi a vedere i vari aggiornamenti partendo da euro-dollaro Che nella giornata di ieri è rimbalzato molto bene Sulla zona di 1.22 Nella giornata di oggi sembra però che il dollaro voglia avere un po' di forza Sta dimostrando un po' di forza ma comunque siamo appena alle 9.30 Quindi staremo a vedere Detto questo faccio una considerazione un po' più personale Allora, euro-dollaro lo abbiamo analizzato molte volte nell'ultimo periodo E che cosa abbiamo fatto? Beh, molto semplicemente abbiamo sfruttato il trading range Che quindi ci posizionavamo short da 1.25 e long da 1.22 Questa volta ho voluto diminuire l'esposizione per quale motivo? Perché vede una forza del dollaro americano un po' contro tutte le altre monete E di conseguenza contro tutte le altre valute E di conseguenza la fiducia su questo trading range viene un po' meno Ma comunque le regole sono le regole e di conseguenza continuo a mantenere il tutto Perché comunque il supporto tecnico c'è Prima o dopo verrà rotto Quando verrà rotto prenderemo questo stop Detto questo è uno stop abbastanza stretto Se poi aggiungiamo anche che abbiamo una minore disposizione Insomma abbiamo un rischio abbastanza limitato Che ci consente anche di stare tranquilli a livello psicologico Quindi long da 1.22 stop Di sotto del livello di 1.21.50 55, 50 il numero tondo Molto bene Direi che però possiamo andare avanti e vedere gli indici Perché l'Italy Noi siamo short sull'Italy da 24.000 Dai cash sto parlando Anche ripeto ogni giorno Non sono pessimista sui mercati Anzi Ma una resistenza così non può essere ignorata Quindi siamo short da 24.000 Vediamo come tiene Si può attendere anche la chiusura settimanale Per fare delle considerazioni un po' più interessanti Però comunque teniamolo d'occhio giorno per giorno Questo oggi è aperto bene Stiamo a vedere come chiude DAX invece Il DAX si trova ora in area 12.480 Sono sempre al panorama del cash Siamo su time frame giornaliero Allora che cosa avevo detto io qui precedentemente Qualche giorno fa avevo detto Attenzione se il prezzo mi chiude sotto questo minimo Che è 12.547 Io entro in posizione Sono entrato in posizione Sto già perdendo un po' Detto questo però Se torna a 12.547 È il punto perfetto Se invece qualcuno vuole entrare con una minore esposizione inizialmente Incrementare successivamente a 12.547 Può farlo Secondo me è una cosa intelligente Stop abbastanza stretto Perché la chiusura dei prezzi Al di sopra del livello di 12.650 Quindi anche questa è una resistenza Sicuramente molto interessante Poi se la romperà Abbiamo spazio almeno fino a 12.850 Per quanto mi riguarda Il gold invece Beh il gold sta scendendo Vediamo se arriverà a target Abbiamo già portato a casa parte del profitto Ieri giornata positiva Oggi però sembra Sembra calare Detto questo siamo sempre alle solite storie Attendiamo Attendiamo il target in area 1314 Che secondo me potrà arrivare In tempi brevi Nasdaq Nasdaq ieri c'è stato un ribasso Un ribasso interessante Anche con degli spike non indifferenti Detto questo da apertura a chiusura C'è stato un meno 2% Quindi ovviamente anche tutti i titoli Legati all'indice azionario Sono calati ovviamente Quindi parliamo di facebook Apple Amazon E quant'altro Quindi magari oggi al trading live Vedremo anche se ci sono delle interessanti occasioni Per quanto riguarda Tutti questi titoli I titoli più importanti al mondo Senza dubbio Le aziende più importanti al mondo E quindi vi aspetto alle ore 16 Io ho concluso Ancora qualcosa da vedere Come ad esempio Banca IFIS Sono entrato long su Banca IFIS Incrementato a 32 Lo vedremo anche questo Oggi al trading live Però io non mi nascondo mai Ho preso uno stop su NZDUSD Adesso la cosa interessante È attendere un ritracciamento Per entrare in posizione C'è stato un forte impulso Attendiamo il ritracciamento E cerchiamo di percorrere questo nuovo trend Sono andato oltre il tempo Ma come sempre per me È un piacere Con questo io auguro una buona giornata E un buon trading a tutti E ci vediamo Quest'oggi Alle ore 16 Al trading live Buona giornata E buon trading a tutti